Siamo da Morrison, questa è la quantia di roba, guarda quanta roba c'è, non so se riuscite a capire, secondo voi quanto sarà la monto? 78 pound, da Morrison, dove non lavora più nessuno, praticamente è tutto self-checkout, tutto self-checkout, covid. E questa è la situazione in England, dove la spesa costa poco, cioè se fossi in Italia di tutta sta roba sarei già a 200 euro, non so se ci rendiamo conto, però comunque questa è la vita.